Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Stop del Tarra, referendum sulla fusione Pesaro-Mombaroccio, tutto da rifare E ancora in gravissime condizioni Sara Bracci, la 38enne fanese vittima di un incidente stradale sulla strada provinciale 29 Incendio all'alba in un vivaio andati in fumo centinaia di vasi in plastica Nel settore della pesca i dati inail degli infortuni sul lavoro riportano numeri elevati se ne è parlato in un convegno a Fano sulla sicurezza in mare A diocesi di Fano, Fosombrone, Cagli, Pergola presenta il programma dell'anno giubilare Buonasera, benvenuti a Occhio alla Notizia Nel pomeriggio di oggi è arrivato dal Tarra delle Marche uno stop al referendum che si doveva tenere nella giornata di domenica e che chiamava i cittadini di Pesaro e Monbaroccio ad esprimersi sulla questione della fusione Naturalmente noi abbiamo registrato le reazioni delle due parti chi era a favore del sì e chi era a favore del no Sentiamo Il Tribunale Amministrativo Regionale ha deciso per questioni diciamo di normative e non di merito e questo va precisato non di merito ma ha fatto solo un normativo che appunto e gli atti vanno riproposti vanno rifatti per poter poi eventualmente mettere in moto quella che è la fusione per incorporazione Nell'ambito diciamo delle procedure che riguardano i quattro comuni che hanno lo stesso iter procedurale che hanno adottato le stesse identiche disposizioni imposte diciamo dalla regione Marche ci saranno i due comuni Monbaroccio e Pesaro i quali dovranno rinviare il tutto di qualche mese per poi arrivare di nuovo all'obiettivo mentre invece nell'ambito della stessa provincia Urbina e Tavoletto quasi certamente potranno tranquillamente con lo stesso procedimento e con la stessa legge invece fare la fusione per recuperazione e questa è una cosa evidentemente un po' come dire un po' particolare un po' strana perché è come dire che se uno va e cento all'ora gli fanno la contravenzione all'altro la contravenzione non la fanno ma io sempre in chiaro sono particolarmente contento che invece i due comuni vicini Tavoletto Urbino riescano effettivamente a farla questa fusione per incorporazione perché comporta per i comuni un beneficio notevolissimo un beneficio che noi al momento perdiamo perché si sposterà il tutto quanto meno di un esercito di un anno quindi quelli che erano i contributi che potevamo ricevere già nel 2016 eventualmente si prenderanno l'anno successivo dovremmo evidentemente rinviare tutti quegli investimenti tutte quelle opere che quelle disponibilità finanziarie ci avrebbero messo in condizione di realizzare dalla viabilità pubblica alla scuola materna al rifacimento dell'arredo urbano e quant'altro insomma tutto quello che era già nei programmi dovrà necessariamente essere spostato in là di un esercizio e ci dispiace soprattutto per il fatto che è ai cittadini monbarrocesi che non si è fatto un bel regalo perché togliere queste disponibilità finanziarie a un comune come il nostro e che poteva realizzare tante di quelle infrastrutture eccetera non penso che sia proprio il massimo però come si dice qualcuno potrebbe anche esserne contenti immagino di no però insomma ecco questa è la situazione noi siamo molto contenti non lo nascondiamo perché finalmente riteniamo che sia stata fatta almeno in questa fase giustizia e quindi che la democrazia cominci ad avere un significato non soltanto sulla carta e ovviamente noi facciamo presente che non abbiamo mai detto che non vogliamo il referendum anzi abbiamo fatto questo ricorso proprio perché vogliamo il referendum rispettando la legge del Rio quindi questo referendum deve essere preventivo rispetto all'iter che i due comuni dovranno avviare e d'altronde questo lo abbiamo comunicato ottobre facendo una diffida legale chiedendo agli vari enti ognuno per le proprie delibere di annullarle in autotutela quindi avrebbero potuto seguire questo iter perché abbiamo spiegato in queste diffide quello che poi abbiamo dovuto scrivere nel ricorso è proprio il fatto che c'era un'illegalità di fondo quindi noi siamo felicissimi di questa decisione oggi presa dal TAR riteniamo che sia stata fatta giustizia nell'interesse del nostro comune e dei nostri cittadini e aspettiamo di fare questo referendum ma seguendo la legge la vita di Sara Bracci è ancora appesa a un filo le sue condizioni cliniche restano gravissime il bollettino medico delle 17 di oggi 11 dicembre è laconico e drammatico Sara 38 anni fanese da tempo trasferitesi a Cagli mercoledì scorso è rimasta vittima di un tremendo incidente frontale sulla provinciale 29 lei viaggiava a bordo di una panda che si è scontratta con una Ford Fiesta sulla quale c'erano tre persone tutte ferite in modo non gravide subito trasferita in eleambulanza all'ospedale di Torrette di Ancone e in prognosi riservata nel reparto di rianimazione diretto dalla professora Paolo Pelaia ed ora una notizia di cronaca ieri sera intorno alle 21.30 è stato ritrovato morto nel bagno dell'abitazione della compagna a Lucrezia di Cartoceto un 22enne fanese Alan Perrelli a causa di una overdose di eroina sull'accaduto indagano i carabinieri di Saltara e Vigili del Fuoco in azione questa mattina perché sono andati a fuoco centinaia di vasi di plastica in un deposito vivaio a Sant'Andrea in Villis a Fano l'allarme è stato lanciato da un agente della polizia stradale che ha chiamato il 115 alle prime luci dell'alba la colonna di fumo nero era visibile anche a Fano i Vigili del Fuoco di Fano arrivati intorno alle ore 7 hanno lavorato a lungo per aver ragione sulle fiamme sull'origine dell'incendio si attende la relazione dei pompieri poco distante dal vivaio c'è anche un torrente e per questo è stato necessario verificare a fondo che non ci siano state infiltrazioni nel terreno che possono aver inquinato l'acqua sottostante sul posto sono arrivati anche gli agenti della guardia forestale dello stato per compiere ulteriori accertamenti e a partire dal 15 dicembre prossimo presso il comune di Fano i cittadini maggiorenni potranno esprimersi in merito alla donazione dei loro organi vediamo come non è più faragginoso nel senso magari andare alla ASL e vedere gli orari oppure prendere una tessera e iscriversi all'Aido no è estremamente semplice al rinnovo o all'atto del rilascio della carta d'identità l'ufficiale nagrafe verrà a chiedere vuole esprimere la sua volontà in merito alla donazione allora ci saranno tre possibilità il cittadino potrà dire no non mi interessa speriamo di no potrà dire no sono contrario a questa cosa speriamo di no oppure può dire semplicemente perché no sono favorevole a quel punto l'ufficiale dell'anagrafe prenderà atto di questa dichiarazione di volontà farà firmare il modulo dopodiché la volontà del cittadino entrerà immediatamente nel sistema informatico trapianti quindi noi del centro regionale trapianti H24 fra 100 anni quando il cittadino verrà a morire saremo in grado di cercare la sua volontà e quindi farla e quindi è un momento anche per fare rispettare la propria volontà in merito a quello che è il fine vita in sostanza e fare questo atto bellissimo della donazione che non costa assolutamente nulla però rende la vita e la salute agli altri noi abbiamo subito aderito come comune di Fano io stesso da sindaco ne ho eletto alla prima assemblea nazionale del Lanci ho aderito all'iniziativa del ministero della sanità una scelta in comune ovviamente un sindaco come me che viene anche da un'esperienza come quella della donazione del sangue non poteva non essere sensibile è un gesto di alto sono gesti di alto valore hanno ripeto anche un'importanza significa ridare la possibilità di un'altra vita di proseguire quindi ecco è un bel momento io penso che i cittadini apprezzeranno questa iniziativa e sono altrettanto convinto che avrà anche un'altra adesione e si parla spesso di sicurezza sul lavoro noi leghiamo questo aspetto spesso ai cantieri edili oppure alle industrie invece anche il settore marittimo necessita di maggiore attenzione in questo ambito vediamo il servizio i dati del Lineal ci indicano che gli infortuni e di sinistri nel settore pesca hanno numeri elevati se messi in rapporto con il numero degli occupati 24.000 addetti a Fano si è discusso questa mattina sulle tematiche inerenti alla sicurezza degli operatori in ambito marittimo per inquadrare le variegate problematiche legate al lavoro dei pescatori e quanto queste siano integrate ad esigenze di continuità e di incremento delle attività di impresa abbiamo tanti troppi incidenti le motivazioni sono svariate errate progettazioni delle navi eccessiva sicurezza abitudini consolidate a lavorare in un certo modo non più coerenti con quelli che sono i nuovi metodi di produzione che hanno cambiato rispetto alla pesca tradizionale occorre lavorare e impegnarsi su questo la legge sugli infortuni sul lavoro e il DL81 ancora non viene applicato interamente come in altri settori a quello marittimo ma occorre oltre che sulla formazione fare un investimento culturale e in questo senso sono impegnati i rappresentanti di categoria è chiaro che occorre comunque far fare un salto proprio culturale in maniera anche come posso dire univoca con l'armatore e il pescatore perché sostanzialmente lavorare in sicurezza significa produrre sicurezza dal mare e produrre sostanzialmente anche certezza di reddito un anello importante su questo fronte sono gli organi di vigilanza che assolvono un dublice compito sia nel far rispettare le norme sia nella tutela dei consumatori L'attività di controllo che viene effettuato da tutte le autorità marittime ha una funzione di assoluta importanza soprattutto sia nei periodi particolari come può essere il periodo dell'imminenza delle festività natalizie per assicurare ai consumatori che sulle tavole giunga un prodotto appunto verificato e controllato in aderenza alle normative nazionali europee e comunitarie e nello stesso tempo tutelare il comparto pesca che rappresenta una parte importante di tutto il cluster produttivo nazionale a Fano però va registrato un dato in positivo rispetto al panorama nazionale sul settore sicurezza del settore della pesca non dico che Fano sia un fiore all'occhiello ma quasi diciamo è una delle marinerie all'avanguardia sulla sicurezza non a caso negli ultimi 15 15 anni non abbiamo mai avuto grandi problemi non abbiamo avuto grandi infortuni e questo denota che la sicurezza viene applicata in maniera coeretta e coerente con le norme domenica 13 dicembre alle ore 16 in cattedrale verrà aperta la santa porta in occasione dell'inizio del giubileo della misericordia voluta da Papa Francesco per quest'anno giubilare iniziato all'8 dicembre la diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola ha approntato un programma ricco di appuntamenti sentiamo un giubileo dalla porta aperta però dove si dove si vive quindi non andremo via da Fano da Fossombrone da Cagli da Pergola ma staremo qui ed è per questo che il segno di apertura della porta santa lo faremo domenica prossima 13 di dicembre alle 3 e mezza si partirà da San Paterniano un pellegrinaggio arriveremo ad aprire la porta santa la porta della misericordia e poi la celebrazione dell'Eucadistia in cattedrale saranno anche dei ragazzi dei giovani che sono accolti qui nella nostra diocesi perché profughi perché di altre nazioni che con noi acclameranno al Vangelo sarà un sacerdote russo che acclamerà che leggerà il Vangelo perché vorremmo che questo anno sia veramente un anno in cui riallacciamo relazioni il Papa dice non voglio una chiesa che costruisca muri o che faccia fortontiere ma una chiesa in piazza una chiesa ospedale da campo questo ci auguriamo e il bescovo della nostra dioce Monsignor Armando Tattasarti ci ha anche proposto due segni giubilari che saranno un po' il segno di una carità e di una misericordia molto concreta quello di aprire un centro di prima accoglienza per coloro che hanno bisogno del medico e non hanno i requisiti per recarsi nei nostri ospedali e quello di accogliere nelle famiglie i profughi che in questi giorni che in questi mesi stanno venendo in Italia dico anche che una porta che apriremo ma che sarà sempre aperta sarà la porta delle carceri il Papa dice licitamente che la porta delle carceri sarà per ogni carcerato la porta santa se la attraverserà con la voglia di cambiare vita ecco noi vorremmo arrivare là dove ci sono queste barriere per poter con la misericordia accogliere tutti perché tutti possano aprirsi alla misericordia di Dio questa sera intorno alle ore 18 e 30 si è verificato un incidente stradale in via Soncino all'angolo tra la scuola elementare di Sant'Orso coinvolte nello scontro una Fiat Panda e un furgone della ditta Dago al momento la dinamica dell'incidente è in via di accertamento intervenuta sul posto una pattuglia della polizia stradale sabato 12 dicembre domani il centro aiuto alla vita con la collaborazione del comune di Pesaro organizza la sesta edizione della giornata di solidarietà verso i bambini e le famiglie in gravi difficoltà economiche con questa iniziativa tutti i cittadini pesaresi potranno acquistare nelle farmacie che aderiscono all'operazione biberon prodotti scientifici per l'infanzia come il latte in polvere omogenizzati e pannolini i volontari del CAV provvederanno alla raccolta e alla distribuzione alle famiglie dei bambini di Pesaro più bisognose un piccolo contributo ma importante al quale tutti possono aderire per sostenere e costruire dei legami di solidarietà per il sostegno dei più piccoli da domani sempre sabato 12 dicembre nella sala San Michele a fianco all'arco d'Augusto una mostra organizzata dall'apito Marche con 60 disegni realizzati da uomini e donne con richiesta di asilo questa mostra porta tutti i disegni che sono stati realizzati all'interno di un progetto che l'associazione Don Paolo Tonucci appunto porta avanti da oltre un anno il progetto è il piacere di conoscerti storie vere ed emozioni dal mondo e abbiamo scelto proprio un linguaggio senza parole per favorire la conoscenza e la relazione anche con le persone con cui è difficile proprio parlare per una questione di lingua sono tante le lingue che ospitiamo qua in nostra provincia quindi l'apito per dare proprio a far conoscere alla cittadinanza questa realtà e cercare nel suo piccolo di integrarla ha organizzato questa mostra che si tiene alla Sala San Michele gentilmente dataci dalla Fondazione Cassa di Risparmio dal 12 quindi domani da domani 12 dicembre fino al 20 sarà aperta tutti i giorni certamente al pomeriggio nei weekend anche alla mattina e domani 12 punto alle 17 avremo l'inaugurazione di questa mostra la presenza delle autorità civili e religiose di Fano e all'interno di questa mostra presenteremo anche il nostro calendario l'apito 2016 che come tutti gli anni si fa riferimento alle attività svolte nell'anno quindi ci sembrava giusto quest'anno dedicarlo proprio a questi amici richiedenti asilo che sono qui ospitati da noi la mostra sarà aperta tutta la settimana e durante la settimana avremo modo di conoscere anche le associazioni che con noi lavorano in rete all'interno del forum dell'immigrazione voluto dall'assessorato ai servizi sociali di Fano in particolare domenica alle 18 Enzo Vecchiarelli e Marco Florio presenteranno i canti dell'immigrazione un sunto di uno spettacolo più ampio che è stato fatto recentemente a Fano ancora un evento in sostegno del piccolo Federico Federico Mezzina per aiutare i genitori a sostenere le costose cure all'estero per il bambino domani sempre sabato 12 dicembre alla Bocciofila la combattente di Fano cena di solidarietà con menù a base di pesce al costo di 20 euro con intrattenimento per bambini letture e palloncini inizio del tutto alle ore 20 ed ora parliamo del Natale e dell'albero di Natale di Fano che campeggia in piazza perché può diventare protagonista dei vostri scatti e magari potete anche vincere un premio sentiamo parliamo di questa settimana che vedrà la partenza di due iniziative un'iniziativa è questa che viene anche spontanea visto le persone che stanno facendo foto questi giorni sotto l'albero ed è appunto un concorso fotografico scatta una foto e vinci quindi un selfie fatto con dietro l'albero o con i babbi natale che sono stati portati in città dal comitato centro 2.0 e si può postare la foto nella pagina il Natale più scrivendo hashtag Natale di Fano Natale della Fortuna la foto che avrà più like vincerà un ingresso per due persone in un centro benessere del territorio offerto in questo caso da alberghi consorziati che ci aiuta e ci supporta nella parte turistica diciamo della manifestazione sabato pomeriggio alle 18 i ragazzi della Kulo Band una band tutta fanese metteranno in scena in piazza 20 settembre proprio sotto l'albero questa bellissima storia di Babbo Natale che gira il mondo quindi sarà una favola musicata e domenica l'evento che andiamo a creare è proprio in una di Santa Lucia quindi due scuole di danza progetto di danza da una parte e New Latin Dance Academy di Mattia Damantini dall'altra partiranno una da Via Cavour e una dalla zona di Porta Giulia faranno delle coreografie con delle candele lungo tutto il corso per allietare anche la visita delle persone che verranno in città con delle candele in mano alcune di queste candele verranno anche regalate e date ai bambini che saranno presenti perché dovranno essere portate al centro della piazza sotto l'albero dove verrà disegnato con le candele un alberello mentre appunto le ragazze di queste scuole di danza balleranno in onore appunto di questa patrona importante della luce e naturalmente in questo periodo di fine anno ed inizio anno diventano quanto mai utili i calendari ma ce n'è uno che parla del nostro territorio si chiama Ideo Calendario a 35 anni racconta il territorio domani presso l'azienda Ideo Stampa un'azienda locale in collaborazione con le Proloco presenteranno questo calendario che sarà distribuito alle persone vediamo noi come tutti gli anni presentiamo il nostro calendario e quello di quest'anno è dedicato praticamente ai paesi in festa e quindi in particolar modo alle Proloco che animano questi paesi con le loro iniziative totalmente di volontariato questo qui sarà fatto quindi in collaborazione con loro che ci hanno diciamo raccolto tutte le foto più carine che sono state poi stampate in questo calendario che per 12 mesi rappresenterà praticamente in ogni mese uno dei comuni della nostra vallata ecco venerà presentato domani e verrà omaggiato insomma tutte le persone che hanno nel cuore il nostro territorio sì diciamo sono una tiratura di mille copie che verranno regalate ai nostri clienti e chiunque ne vorrà in qualche maniera avere una copia potrà presentarsi presso la nostra azienda e sarà tranquillamente omaggiato anche le Proloco avranno a disposizione qualche copie sì loro sono state chiaramente dedicate una certa quantità di copie gratuiti che comunque possono distribuire a chi è che ne fa richieste ma è aperto a tutti comunque bene con quest'ultima notizia vi diamo una informativa importante perché anche quest'anno torna il concorso dei presepi alla scoperta dei presepi dall'8 dicembre fino al 6 gennaio dovete mandare tre foto o un breve video che però contenga anche l'autore dell'opera l'indirizzo la mail è questa presepi chiocciola fanotv.it e quindi attendiamo tutti i vostri presepi che naturalmente poi sarà il più bello premiato grazie per essere stati in nostra compagnia o che la notizia termina qui e torna naturalmente domani sera sempre puntuale alle 20 e 30 grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti